Di nuovo in diretta dagli studi di Radio Lombardia per la seconda ora di Pane al Pane, in studio con me Enrico Fedocci, collega giornalista, benvenuto. Buonasera. E insieme a lui il professor Arturo Maniaci, che è docente di diritto privato all'Università Statale di Milano, benvenuto. Dovete assolutamente ascoltare questa storia, quello che è capitato a Enrico Fedocci, ma prima come sempre a quest'ora ascoltiamo Pinocchio, la rubrica di Fabio Massa. Di nuovo in diretta, allora quindi per raccontare questa tua vicenda personale Enrico Fedocci, anticipo già che la tratterò con grandissima cautela perché è una vicenda davvero molto intima che poi è diventata pubblica e tra poco capirete perché tu hai una compagna attualmente che era e è impegnata in una causa di separazione e divorzio. Esatto, a me piace chiamarla fidanzata, non mi piace il termine compagna, l'ho sempre chiamata fidanzata. Sono molto felice, quella è la chiamerevo fidanzata di Enrico Fedocci, come archetipo, finché ciascuno si possa immedesimare in questa storia. Un giorno tu stai chiacchierando con lei, che cosa scopri? Scopro che, a dire la verità, poco prima che ci fosse questa udienza, nei moduli da compilare c'era una voce per convivente, rendito convivente. Sostanzialmente, lei non è convivente con me perché comunque vive nella sua città e un po' qua e sostanzialmente ci poniamo alla questione. L'avvocatessa spiega che assolutamente non bisogna mettere i miei dati, i miei dati fiscali, quanto guadagno, perché noi non siamo nulla da un punto di vista giuridico. E quindi serenamente se ne va questa udienza e in questa udienza la giudice, si chiama Nicoletta Sommazzi, e insomma chiede conto di questi dati. Lei mi scrive e io ti diffido da comunicare i miei dati personali in una vicenda che non mi vede in alcun modo coinvolto, io non sono parte in questo processo, quindi ti diffido. Lei cerca in qualche modo di resistere, la giudice chiede conto anche di quanto io guadagni, lei non ha mai saputo il mio stipendio, perché non ne abbiamo parlato, non è una questione, non era argomento di conversazione. E a questo punto la giudice decide di mandarmi una indagine di polizia tributaria, quindi un accertamento patrimoniale. Quindi ordina questa indagine e io sinceramente finché non lo vedo scritto e l'avvocato mi ha mandato la porzione che proprio riguardava solo me, e io mi vedo ordina che l'Agenzia delle Entrate, l'Infs, fornisca tutti i dati patrimoniali, gli estratti conto di Enrico Fedocci e poi tutti quanti i miei dati. Mi arriva questa porzione di ordinanza nella parte che mi competeva e io rimango scioccato, rimango scioccato. Nel giro di pochi giorni, anche circa una quindicina di giorni, l'Agenzia delle Entrate, che nel frattempo era stata diffidata, fornesce tutte le mie carte a tal punto che l'avvocato informa la mia fidanzata e a un certo punto, sentendo poi l'avvocato, mi dice tutto quello che mi riguarda. Io sono al telefono e sento che lei ha questo, lei ha quest'altro, lei ha quest'altro ancora e mi crolla il mondo addosso, perché io davvero non pensavo che fosse possibile una cosa del genere senza che io fossi nel frattempo ufficialmente informato. Cioè, se la mia fidanzata non avesse ritenuto, per una serie di ragioni che poi possiamo andare a analizzare, di informarmi, io non avrei mai saputo che i miei dati fiscali, i miei dati bancari, tutta la mia vita... Tutta la tua vita messa a nudo? Spese, negli ultimi anni, situazione previdenziale, lavorativa? Nelle mani di sconosciuti. Poniamo che la mia fidanzata, quando ci sono queste relazioni che seguono magari dei divorzi difficili, alla fine magari un po' di quella pesantezza si porta nella relazione e quindi è facile che questa pesantezza faccia parte del nuovo rapporto. Non è il nostro caso, perché noi siamo molto innamorati, però può capitare. Poniamo che io, in qualche modo, fossi un po' stanco di questa situazione. Lei, legittimamente, magari per paura di farmi arrabbiare e di porre a questo punto fine a questo fidanzamento, avrebbe potuto omettere un particolare e invece lei l'ha condiviso con me. Poniamo anche un'altra situazione. Poniamo che io e lei abbia solo avuto un rapporto di amicizia a io e lei abbia inventato questa relazione per far credere al marito che fosse ripartita, per far capire al marito che c'era una persona accanto a lei e a questo punto il marito faccia richiesta al giudice perché si possa calcolare il mantenimento della prole anche sulla base del mio stipendio. è una cosa incredibile. La giudice, senza chiarire effettivamente quale fosse il mio ruolo, ha disposto un accettamento fiscale patrimoniale su una persona senza sapere se effettivamente questa persona faccia parte della vita di questa donna. Io ritengo che sia una cosa folle. È una cosa folle e inaccettabile. A proposito di Avvocati, ringrazio e saluto in collegamento l'Avvocato Alessandro D'Arminio Monforte che è esperto di privacy. Buonasera a tutti. Ecco, abbiamo aspettato fino adesso in modo tale che fosse chiaro il quadro anche agli ascoltatori. Enrico Fedocci è stato lasciato nell'impossibilità totale di difendersi. Ci spiega meglio qual è il funzionamento giudiziario? Che cosa succede quando c'è un caso come questo? Beh, anzitutto il Dottor Fedocci non è parte del procedimento, quindi non è una parte processuale e come tale non ha alcuna possibilità di difendere le proprie ragioni come parte appunto del processo. In più non è neanche quel famoso soggetto terzo al quale la norma si riferisce quando tratta il tema dell'esibizione dei documenti relativi a Dottor Fedocci. Quindi non è neanche il soggetto destinatario dell'ordinanza. E poi non gli viene notificato neanche a titolo conoscitivo il provvedimento. Quindi la cosa incredibile è che ne è venuto a sapere così casualmente, solo perché la sua compagna ha deciso di condividere questa informazione. Quindi non ci sono strumenti per la tutela nell'ambito del processo dei diritti dell'autor Fedocci, ma l'unica alternativa è stata inizialmente quella di diffidare tutti i soggetti come l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, il Centro per l'Impiego, dal comunicare questi dati personali all'interno di un procedimento e poi da ultimo un ricorso urgente al Garante per la protezione dei dati personali, che in qualche modo dovrà cercare di esprimersi su questo trattamento che dal nostro punto di vista è assolutamente illecito perché va a violare non solo i principi ispiratori del regolamento, il famoso regolamento europeo sul trattamento dei dati personali di cui costantemente sentiamo parlare, ma anche dei principi costituzionali. Quindi paradossalmente hai meno diritti di un indagato. Professor Magnaci, la riforma... Io non ho nessun diritto, gli indagati hanno i loro diritti, io non ne ho, non posso dire nulla, non posso intervenire, non posso interloquire, non posso chiedere che cosa faranno dei miei dati, io devo subire passivamente la decisione di una giudice. Scusa, faccio questa domanda molto onesta, ma la giudice ha reagito in qualche modo agli articoli che sono usciti sugli organi di stampa? Io non ho rapporti con questa giudice, non so nulla e sinceramente mi interessa relativamente. A me interessa che la mia vita è stata messa a nudo perché legittimamente io potrei avere, potrei soffrire di qualche malattia che mi porta all'istituto oncologico che ogni mese mi mette fattura sulla base di... potrei essere un maniaco di gioco d'azzardo, quindi sui miei conti potrebbero esserci continuamente transazioni per gioco d'azzardo online. Potrei essere qualsiasi cosa, ma è una questione che riguarda me, non riguarda persone che io non conosco e non so che uso ne possano fare, perché questo è un danno grave che io in qualche modo vorrei quantificare, perché chi ha sbagliato dovrà pagare, perché io non mi fermo. Mi auguro che tu abbia giustizia di questo, dobbiamo parlare, dobbiamo essere molto chiari anche con i termini. Professor Maniaci, la riforma Cartavia cosa prevede per le indagini su terzi? Allora, c'è questa riforma che è entrata da poco in vigore, che prevede nell'ambito dei processi di famiglia, quindi separazione e divorzi, che il giudice possa disporre indagini su terzi. È previsto così, però ovviamente questa disposizione va interpretata alla luce del quadro normativo generale e alla luce soprattutto della Costituzione, perché anche facendo un confronto, ne accennava lei prima, l'indagato penale ha diritto di conoscere che è indagato, il famoso avviso di garanzia, perché io conosco, so che sono indagato. Chi è sottoposto a ispezioni, verifiche fiscali, il contribuente è sottoposto, ha addirittura diritto che lo si informi dall'inizio delle operazioni, del ragione per cui è indagato e di tutta una serie di cose. Addirittura nel procedimento di accesso amministrativo, quando uno fa istanza di accesso per avere un documento, potrebbero esserci in relazione a quel documento dei controinteressati. Questi controinteressati hanno diritto a essere informati, possono addirittura fare opposizione. Nel caso del dottor Fedocci, lui veramente non può intervenire nel giudizio, non può opporsi e addirittura non può neanche conoscere il trattamento dei dati a posteriori, cioè in futuro lui non potrà sapere che uso ne hanno fatto. Quindi siamo veramente di fronte a una mortificazione dei diritti della persona. Assolutamente, è un limbo che non è da gurarsi a nessuno. Io immagino che questa vicenda abbia avuto anche delle ripercussioni sulla tua vita privata, non è stato bello passare attraverso questo. Allora, sulla coppia, se ci fosse stata una frattura… No, non intendo la coppia, però momenti di inquietudine, insomma, io non ci dormirei la notte. Non ci dormo la notte, continuo a non dormirci la notte e non dormirò sereno finché questa vicenda non sarà chiarita, finché questa vicenda non sarà ricostruita nel giusto modo, finché non sarà fatta una modifica e per impedire a una giudice che comunque non mettiamo, è un magistrato della Repubblica, non è una persona alla catena di montaggio che schiaccia dei pulsanti. Deve capire quali conseguenze possono avere le sue azioni, perché se non c'è una chiarezza, mettono una persona, mettono una persona che abbia fatto un esame così difficile, proprio perché sia in grado di discernere e di valutare ciò che si può fare e ciò che non si può fare. In questo caso sono stati calpestati i miei diritti costituzionali di persone, di cittadino. Io sono furibondo. Io sono furibondo. Sei fin troppo calmo anche. Ecco, non voglio esplodere, ma lo faccio per autodifesa. No, siamo qua anche per dar voce alla tua vicenda, insomma, contribuire in qualche modo a una risoluzione possibile. Io sono esterefatto. Io nella mia vita professionale una cosa del genere non l'avevo mai vista. Abbiamo, come nel mio telegiornale, comunque le testate per cui ho lavorato, abbiamo dato tante volte a vittime della giustizia, a vittime di corto circuito giudiziario, ma io veramente mi sono reso conto che per capire veramente cosa si prova, il senso di impotenza, bisogna provarlo. Perché, ricordiamo, che io ho avuto la capacità di valorizzare ciò che mi è capitato e di indirizzarlo a favore di opinione pubblica. Quindi, e non è stato semplice spiegare una cosa così difficile, perché ho impiegato tanto a capire quelle che erano state le violazioni dei miei diritti. E alla fine sono riuscito. Ma un povero Cristo, che non ha questi strumenti, non riesce a capire quali siano effettivamente i suoi diritti, che cosa deve fare? Deve esserne vittima? E poi ci lamentiamo che la gente impazzisce? Io, giusto con la razionalità, posso mettere le cose nella propria collocazione e convogliarle affinché questa mia esperienza negativa, perché io il danno l'ho già avuto, ed è irreparabile, questa mia esperienza negativa vada a patrimonio degli altri, perché non ci siano più casi come questi, perché non ci siano magistrati che fanno dei diritti del cittadino uno scempio del genere, perché io mi sento vittima di mala giustizia. Non pensavo l'avrei mai detto, una cosa del genere. Tante volte mi sono trovato con il microfono nei confronti di una persona che questa frase mi è stata detta tantissime volte. E per me è strano pronunciarla, ma io sono vittima di mala giustizia. E mi auguro che tu possa quantificare anche economicamente i danni. Voglio chiedere all'avvocato Alessandro D'Arminio Monforte, ma questa emorragia di dati di Enrico Fedocci si è conclusa oggi o potrebbe accadere ancora qualcosa? No, purtroppo potrebbe ancora accadere qualcosa, perché per il momento a questo famoso ordine di esibizione ha ottemperato solo l'agenzia dell'entrata, ma ci sono altri due soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento, che sono IMSS, i centri per l'impiego, che possono ancora fornire ulteriori dati, diversi rispetto a quelli già depositati, ma comunque delicati come quelli che sono già stati depositati. Quindi noi auspichiamo che ci sia un intervento veramente immediato dell'autorità garante, proprio perché il danno può aggravarsi e può aggravarsi anche in modo molto grave, perché poi non ci dimentichiamo che una volta che questi documenti sono confluiti nel fascicolo del processo, sono accessibili ai legali delle parti che tendenzialmente li conservano sui propri dispositivi informatici e che essendo atti processuali possono entrare nella disponibilità anche dei loro assistiti e inviati magari via mail possono entrare nella disponibilità di altri soggetti, per cui la catena di custodia del dato possiamo dire che ormai è definitivamente compromessa. Il giudice avrebbe quantomeno dovuto premurarsi, al di là di tutte le considerazioni che abbiamo già fatto, di limitare i dati e di assumere delle iniziative atte a fare in modo che i diritti dei soggetti terzi non venissero calpestati in questo modo. Io ho l'impressione che la privacy cessi di esistere con la scusa dei fini di giustizia, ma qui non abbiamo neanche individuato in modo espresso nel provvedimento del magistrato, gli elementi tali da giustificare una violazione così profonda dei diritti del dottor Fedocci, stiamo parlando di una cosa gravissima, quale diritto mai può essere così importante da non tutelare i diritti del dottor Fedocci, forse quello sanitario, per cui è una situazione veramente paradossale. Io credo anche che chi ha dato origine a tutto questo debba essere messo nelle condizioni di non nuocere più agli altri, non mi occupo di giustiziaria, non so attraverso quali modi questo possa avvenire. Volevo ringraziare e salutare l'avvocato D'Arminio Monforte per essere stato con noi fino adesso, buon lavoro. Grazie a voi. E aggiungo un dato di cronaca, quanto abbiamo discusso vedendo il caso Equalize, dossieraggi, venendo conoscenza di cose drammatiche, come tutti i dati backupati dai device sequestrati per le varie inchieste che venivano venduti dai consulenti e poi ceduti nel mercato, in un mercato terzo. Come si fa ad avere ancora fiducia nella giustizia? Ecco, io ho fatto proprio la cronaca di quest'ultimo fatto, proprio ho partecipato alla conferenza stampa, in procura e si sottolineava la gravità di una cosa del genere. Dopo pochi giorni io ne sono rimasto in altro modo vittima, certamente. Ah, non era ancora accaduto? Ancora non era accaduto, no. Ancora non era accaduto. C'è stata la conferenza stampa, credo che sia stata venti giorni fa, pochi giorni prima. Pochi giorni prima. Quindi mi è sembrato di entrare in un incubo. In un incubo. Non ho mangiato per tre giorni. Quel giorno lì, quando io ho capito realmente che, qual era la portata di questa iniziativa, io non ho mangiato per tre giorni. Perché mi si è chiuso lo stomaco. E perché? Fondamentalmente io non ho cose particolari da nascondere, quindi credo di essere una persona piuttosto trasparente. Quindi non sono, per dire, l'imprenditore che fa il nero e che quindi ha paura. Io sono un dipendente. No, però possiamo dire che il nero non è una persona ha diritto di vedersi tutelato il proprio spazio di libertà individuale. Nel senso che comunque non c'era quella componente per cui adesso chissà che cosa scopriranno. Non scopriranno nulla, ma scoprono. Fatti i miei, le mie entrate sono tutte trasparenti perché io sono dipendente, ho la mia azienda visoriale e poi ho comunque delle collaborazioni con l'università. È tutto tracciato. Io mi sono sentito violentato, stuprato nella mia individualità. Io sono sinceramente colpita e dispiaciuta di quello che ti è accaduto e mi auguro che non accada mai più ad alcuno. Siamo pronti per le notizie regionali aggiornate. I nostri ospiti restano con noi. La linea va al direttore Luca Levati. Siamo alla nostra diretta con Enrico Fedocci, collega giornalista, al professor Arturo Maniaci, docente di diritto privato all'Università Statale di Milano, al quale voglio domandare due cose. La prima è perché la giudice ha fatto questa scelta di sequestrare di fatto i suoi dati e poi chi dovrà pagare? Quando verrà verificato? Se c'è stata una colpa, di chi è la responsabilità? Allora, sulla prima diciamo che non sappiamo benissimo qual è la direzione che avrà il processo, ma questi dati acquisiti dovrebbero servire in teoria a dimostrare che la signora, una degli ex coniugi, ha una fonte di sostentamento e quindi potrebbe provvedere tranquillamente al mantenimento dei figli. Questo è un po' il fine non dichiarato di questo provvedimento. La fonte sono io? Sì, certo. Quindi se non ci fossi io, non la posso neanche lasciare a questo punto? Sì, è un paradosso. Tra l'altro, ripeto, il processo tra due diventa addirittura tre e aumenta il conflitto, quindi ha anche un effetto che non è quello di pacificazione ma di incremento della conflittualità. Quanto ai danni che ha risentito il dottor Fedocci, lui potrà chiedere il risarcimento del danno per violazione della privacy, essendo stati acquisiti questi dati, se il garante interverrà e accerterà l'illecito, però lo potrà chiedere il risarcimento dei danni nei confronti di quei terzi, per esempio l'agenzia delle entrate, che hanno consentito la diffusione di questi dati. Quindi la responsabilità è di chi ha diffuso il dato. Non di chi ha ordinato la consenna dei dati. Ah, la responsabilità è di chi ha diffuso il dato? Sì, ci sono anche precedenti in questo senso che dicono che il terzo se la deve prendere. Scusate, allora io leggo che, aspettate che arrivo, l'ho segnato qua, è stata fatta un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio anche per sollecitare un intervento governativo e colmare delle lacune. Cioè come facciamo a fare in modo che questa cosa non capiti più se alla fine è la responsabilità dell'agenzia delle entrate, dell'Inps, eccetera, eccetera? Certo, allora ci sono solo due vie. Uno è modificare la legge e precisare quali sono i limiti. L'altra è, in assenza di questo intervento legislativo, interpretarlo in un senso costituzionalmente conforme. Cioè dire, d'accordo, si può indagare però, uno, vediamo chi è poi, chi è obbligato a mantenere, perché la persona non è obbligato al mantenimento di figli altrui. In ipotesi fosse un genitore sarebbe diverso, perché il genitore, in caso di impossibilità del figlio di mantenere a sua volta i propri figli è soggetto obbligato, ma il fidanzato non lo è ad alcun titolo. Quindi già c'è quel problema. E poi c'è il problema di rendere compatibile l'esigenza di acquisire questi dati col suo diritto alla riservatezza, perché ormai sappiamo bene che i dati bancari fanno emergere la vita di una persona. Cioè non sono solo pagamenti, sono frequentazioni di palestre, di cinema, di teatri o di altri luoghi o di altri contesti che non si vuole far conoscere. C'è anche un correlato ideologico e sociale molto importante in tutto questo, perché non smettiamo mai di discutere del patriarcato e diciamo che la razio che immaginiamo abbia ispirato questa scelta sia quella di dare per scontato che una donna debba essere mantenuta dal fidanzato, dal marito eccetera eccetera. È una mentalità fortemente patriacale. Mi ha colpito proprio per questo e mi ha colpito in un editoriale pubblicato dal giorno, a parte in cui se mi consentite vi leggo, il secondo problema è di carattere più etico. La nuova relazione della donna in alcun modo formalizzata non dovrebbe avere nulla a che fare con l'assegno di mantenimento. Io aggiungo neanche quella formalizzata. Il cui ammontare ricade ovviamente anche sui figli. Il mancato riconoscimento della donna in quanto individualità economica ha minato e continua a minare l'indipendenza femminile ed è curioso che a riproporre la questione sia proprio una donna togata per di più. Posso fare una riflessione di altro tipo? Questo è uno dei tipici casi in cui un uso light degli algoritmi avrebbe neutralizzato il bias. È d'accordo? Sì, nel senso, questo è un rilevo che ci spinge a fare anche un'altra osservazione, che l'intelligenza artificiale è utilizzata in tantissimi contesti, però non è utilizzata per esempio per calcolare gli assegni di mantenimento. Cioè ci sono dei sistemi che fanno sì che si possa calcolare, ma non vengono utilizzati perché si vuole che la discrezionalità dei giudici sia molto ampia. Eppure si potrebbe con dichiarazione dei redditi calcolare secondo criteri obiettivi. Ci sono già dei sistemi che hanno elaborato, però in questo caso si dà mano libera ai giudici d'Italia per determinare quale sia l'importo dell'assegno di mantenimento. E quindi è chiaro che uno alla decisione arriva con tutto quel proprio portato educativo o culturale che è specifico di ogni individuo. Certo. Enrico Fedocci, avviandoci a concludere questa chiacchierata, che cosa ti aspetti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi onestamente? Io mi aspetto che la questione non finisca in una bolla mediatica, ma che ci siano delle conseguenze. Conseguenze innanzitutto che si modifichi una mentalità. Cioè questa mia disavventura deve servire a tutti, a tutte le parti interessate, ma anche quelle che ci stanno guardando, per capire che bisogna andare avanti, bisogna modificare una mentalità, perché abbiamo detto, alla base di questa decisione c'è una visione patriarcale. Cioè la donna, anche se viene mantenuta da un uomo, è consentito, è legittimo, è la tradizione, è sempre stato così. Non è così. Siamo nel 2024, si sono combattute battaglie perché le donne possano essere sempre più competitive nel campo del lavoro, nella società e quindi che una giudice, una donna per di più togata, come diceva l'editoriale, non cerchi di fare un passo in avanti, un po' lascia perplessi. Che cosa farò io? Io cercherò di individuare tutte le responsabilità singole, ipotetiche, e fare una battaglia per gli altri, per quelli che ancora non sono stati danneggiati, perché ricordiamo che se questa possibilità, questa discrezionalità non sarà in qualche modo contenuta, ci saranno altre persone come me che vedranno la propria vita messa a nudo senza poter fare nulla, perché ricordiamo io conosco le tecniche comunicative e sono riuscito a valorizzare i contenuti più importanti di questa mia tragedia. Altri no, subiscono e basta. E la tua è davvero una battaglia di tutti, oltre che una battaglia personale. Noi siamo qua per continuare a raccontarla, quindi per favore tienici aggiornati. Grazie per l'ospitalità. Grazie Enrico Fedocci, grazie al professor Arturo Maniaci, docente di diritto privato all'Università Statale di Milano e noi torniamo in diretta tra poco.